ciao a tutti amanti dell'urbex e benvenuti in questo nuovo video prima di proseguire con questo nuovo contenuto io vi invito a sostenerci cliccando nel link qua sotto mi raccomando fatelo perché è molto importante se volete farci naturalmente un bel regalo tornando a noi questo è un video dove vi spiegherò cosa accadrà quest'estate quindi iniziamo e rimanete fino alla fine del video la prima cosa che vi andrò a spiegare è la consueta pausa estiva che si prende urbex mj quindi lo stop dei video esplorazione adesso approfondiamo l'argomento chi ci segue da tanto tempo sa che urbex mj nel mese di agosto non pubblica video esplorazioni e quindi cosa succederà ve lo spiego subito l'ultimo video esplorazione di questa stagione aprite bene le orecchie amanti dell'urbex uscirà domenica 28 luglio come sempre alle ore 15 come vi dicevo prima poi durante tutto il mese di agosto i video esplorazioni non verranno pubblicati qui sul canale youtube poi non vuol dire che io non andrò in esplorazione semplicemente mi prenderò un mese di pausa perché tanto nel mese di agosto è inutile pubblicare contenuti in primis per me ma soprattutto per voi perché tanto lo so che sarete al mare in montagna ai caraibi alle hawaii e quindi come sempre in questo periodo non pubblicheremo video esplorazioni più in generale soprattutto a maggior ragione qui su youtube e di conseguenza staremo fermi anche nel pubblicare su instagram lo so lo so lo so già vi sento già vi sento marco ma quando è che riprenderete a pubblicare i video esplorazioni su youtube allora amanti dell'urbex è una data molto semplice da da ricordare perché la nuova stagione di urbex mj partirà come sempre alle ore 15 ma aprite bene le orecchie segnatevi la data sul calendario o sul telefono io ormai sono rimasto indietro comunque la data di pubblicazione della prima esplorazione della nuova stagione di urbex mj sarà domenica 1 settembre quindi domenica primo settembre come sempre alle ore 15 appunto partirà la nuova stagione di urbex mj è ma marco cavolo quindi ci lascerai senza video su youtube nel mese di agosto no amanti perché marco ha pensato a due contenuti che saranno una sorpresa ma adesso ve lo spiego così almeno capirete di cosa si tratta ho pensato di pubblicare su youtube nel mese di agosto una top 10 dei posti che ha che ho esplorato e che ho pubblicato su youtube il primo video uscirà domenica 4 agosto quindi dalla posizione numero 10 alla posizione numero 6 mentre domenica 25 agosto dalla posizione numero 5 direttamente alla posizione numero 1 adesso vi spiego un po come funziona allora amanti dell'urbex qua voglio essere il più chiaro possibile io farò una mia personale classifica naturalmente dei posti che ho pubblicato qui su youtube quindi cosa vuol dire che una volta arrivato all'ultima esplorazione che come vi dicevo prima verrà caricata il 29 luglio farò una mia personale classifica dei 10 posti che ho pubblicato da settembre dell'anno scorso fino a luglio di quest'anno quindi un'intera stagione di urbex mj come vi dicevo prima prenderò in considerazione solo i video che ho pubblicato quindi se avete visto storie su instagram di posti che ho esplorato ma che non sono usciti su youtube non li vedrete nella classifica quindi se io ho esplorato vi faccio un esempio il colosseo ma il colosseo non l'avete visto pubblicato su youtube il colosseo non farà parte di questa classifica perché prenderò in considerazione solo i video che ho pubblicato da settembre del 2023 a luglio del 2024 e poi 4 agosto classifica dalla decima alla sesta posizione 25 agosto classifica dalla quinta alla prima posizione bene amanti dell'urbex mi sembrava doveroso informarvi sulle dinamiche estive che coinvolgeranno urbex mj io naturalmente vi invito ovviamente a commentare se avete qualche domanda lo sapete che rispondo a tutti qua sotto nei commenti quindi fatele non vi fate problemi se non avete capito qualcosa chiedete 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 inoltre se vi piace anche questo contenuto se vi piace la mia bella faccia o perché no se vi sto simpatico come sempre lasciate un bel mi piace bene amanti dell'urbex che dire non mi sembra di aver dimenticato nulla questo era un video molto breve perché la gente spesso mi chiede Marco ma quando pubblicherai ma quando mi fermerai quindi ho deciso di pubblicare questo video per informare tutti della programmazione estiva di urbex mj a questo punto fortunatamente fortunatamente per voi che non mi dovete più ascoltare io penso di avervi detto tutto e niente amanti dell'urbex come sempre ci vediamo domenica perché le esplorazioni non sono ancora finite ci vediamo domenica qui su urbex mj con una nuova esplorazione sempre alle ore 15 per questo contenuto è tutto ciao